bello a tutti ragazzi sono michele vi do il benvenuto in questo nuovissimo video finalmente come potete vedere ho trovato il mio setup definitivo per i video su youtube andiamo a vedere insieme come ho fatto ad assemblarlo e a costo zero perché i materiali che vedete li avevo già e per gli agganci collegamenti mi sono un po arrangiato bene ragazzi allora come vi dicevo ho deciso di fare dei lavori per invertire il mio la mia postazione video e per fare dei video fatti bene quindi ora vedete dove prima avevate il mio accappatoio adesso i video saranno registrati tutti da quel lato quindi iniziato posizione del mio treppiedi che un po rotto adesso me ne arriverà uno nuovo e ho iniziato posizionando il treppiedi qui ora invece andrò a posizionare gli umbrelli e vi riprenderò tutti i lavori per allestire il mio studio video definitivo ragazzi ho collegato l'ombrello ora lo oriento alla giusta posizione blocco e via ragazzi il primo ombrello è partito sarà questo a farmi da luce nei prossimi video quindi verranno sicuramente meglio con la luce bianca piuttosto che con quella gialla ora vado a montare il secondo bene ragazzi il secondo ombrello è stato aggiunto adesso vado ad aggiungere il pezzo più importante ovvero il white screen ragazzi ho appena montato il white screen allora da questa parte vedete l'ho attaccato alla la cosa della porta finché legge e dall'altro lato usato un altro sistema estremamente rudimentale cioè questo usato due attrezzi per la copro collegati da un filo elettrico quindi neanche mia nonna però a costo zero ha davvero la sua efficacia bene come avete visto finalmente arredato il mio studio ho fatto in modo che voi non vediate più il mio accappatoio il mio disordine eccetera eccetera è ovviamente una cosa fatta in maniera molto artigianale la prossima volta invece andremo a fare un unboxing nel prossimo video dove prendo tutti i prodotti che servono invece per il miglioramento dell'audio quindi ora con telefono nuovo che fa video migliori luci e schermo bianco e migliorato la qualità video ora non mi resta che migliorare la qualità audio quindi ho preso alcuni piccoli articoli per fare questo mio direi che per questo video possa bastare e chiudendo il video con il mio apple watch ci vediamo alla prossima ciao a tutti